Potrebbero prendere in largo. Lo sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Ha segnato senza battere il ciglio. Avrà tirato un sospiro di sollievo tornando al centrocampo. Il portiere ci è andato davvero vicino. E sono due. Oggi non si ferma più. Nel per il milano. 9.20. Nel per il milano. 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 Nel per il milano.